Tifosi inerazzurri appassionati di calcio giovanile, un saluto da Filippo Sartirana, benvenuti al centro sportivo Vismara di Milano, è il giorno di Milani Inter, è il giorno del derby. Fischio che arriva ora, è cominciato il derby, pallone lungo per Casadei, è buona la palla per Casadei, in area c'è Fonseca, Casadei in area di rigore, Casadei prova a cercare la sterzata, alla fine va al limite da Uri Stagno che calcia con il sinistro. Un che finisce molto alto sulla porta di Jungdall, ma primo scuido dell'Inter, Satriano, si sviluppa appena il contropiede dell'Inter con Oristagno che prova a rientrare, rischia di scivolare, Oristagno va in porta direttamente col sinistro. Sul fondo Tonoli con l'esterno da Fonseca che la spizza in direzione di Satriano, il pallone passa, in anticipo Jungdall rischiano tantissimi due, la palla sfugge, Satriano prova il tiro e arriva il gol dell'1-0. Ancora Martin Satriano al minuto 21, sblocca il derby. La spizzata di Fonseca, il pallone che passa in compressione clamorosa tra Michelis e Jungdall e Satriano con la deviazione del centrale del Milan, porta in vantaggio l'Inter. E continua il periodo d'oro dell'Uruguayano. Oristagno va all'altezza del primo pallone, il pallone rischia di sfilare. Tonoli lo insegue, ancora un'altra chance per Oristagno. Dentro il pallone al limite per Vezzoni che controlla e carica il sinistro! E arriva il raddoppio dell'Inter di Franco Vezzoni al 32esimo. 2-0 per i Nerazzurri. Servito bene da Viseri in maniera intelligente, di prima col sinistro, Fulmina Jungdall. Grande conclusione di Vezzoni. Oristagno va proprio in mezzo, il colpo di testa e arriva il gol del 3-0! La doppietta personale di Martin Satriano che non si ferma più! Che mette a segno un'altra doppietta, pallone delizioso di Oristagno. Satriano la schiaccia a terra al pallone, entra sotto le gambe di Jungdall. Non si ferma più! Parte Olzer che va direttamente in porta, sbatte sul muro. Ancora Olzer a riproporre il pallone che passa, Stankovic bravissimo a bloccarla. Olzer controlla, anche un po' fortunato, Olzer si accentra, prova al sinistro. Scende bene Stankovic. È pronto Natilla a dare il via al secondo tempo. Olzer prova il sinistro, Stankovic si sporca i guantoni, manda in calcio d'angolo. Ballone in mezzo sul calcio d'angolo, Mionic! Ancora Stankovic! Due in rapida successione per Filip Stankovic. Brambilla, prova a portarsela sul sinistro, calcio in porta direttamente lui. L'aspettava gli Stankovic. Non c'è più tempo, finisce qui l'Inter, domina e vince il derby primavera. Che si tinge di nerazzurro grazie alla doppietta di Martin Satriano al gol di Franco Vezzoni. Preti, tutte nel primo tempo, un secondo tempo di gestione per l'Inter di Armando Madonna, che ottiene tre punti importantissimi. Stacca il Milan in classifica, ma soprattutto dà un segnale importante anche a livello psicologico, perché vincere un derby è sempre straordinario, a prescindere dalla categoria. Può dare energie extra anche a livello psicologico, soprattutto in una settimana dove i big match non sono finiti, perché sabato c'è la Juventus in un'altra partita fondamentale dal fascino sempre intatto. È tutto dal centro sportivo Vismara, grazie da parte di Filippo Satriano. Ehi, non dimenticate di iscriverti al nostro canale di YouTube. Hi, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Ehi, non olvides suscribirte a nostro canale di YouTube.